Siamo a due passi dalla rotatoria ad accesso di Opicina, sul sedime di quello che diverrà il futuro parcheggio e la stazione di partenza dal Carso alla città della Cabinovia. Questo è un parcheggio noto ai triestini non solo, che però rimarrà un parcheggio con annessa la stazione. Quest'area da parcheggio verrà riqualificata realizzando un parcheggio multipiano, due piani interrati a servizio dell'utenza. La parte soprastante è realizzata per accedere con i mezzi pubblici, il TPL, e consentire quindi il trasbordo dell'utenza dal TPL alla Cabinovia. I parcheggi saranno gratuiti per gli utilizzatori dell'impianto e consentiranno quindi di avere un comodo accesso di scambio dal veicolo alla Cabinovia e quindi al TPL per l'utenza. Ecco dunque il rendering della stazione della Cabinovia a Opicina, la rotonda ad accesso al parcheggio che avrà lo scopo anche di rallentare il traffico e consentire a pedoni e ciclisti attraversamenti sicuri, la bretella interna al piazzale per consentire la svolta ai mezzi pubblici e, nell'angolo, in fondo a sinistra per chi pensa al piazzale attuale, l'edificio della stazione Carsica con alle spalle Via del Calcare. Per accedervi dai due piani di parcheggio interrato, previsto un sistema di scale mobile e ascensori che prevedono la massima accessibilità a qualunque tipo di utente. La stazione dietro quell'angolo viene realizzata a livello alto, direttamente collegata al parcheggio, per facilitare lo scambio sia dell'utenza quotidiana, ma soprattutto anche di soggetti diversamente abili e quindi dell'utenza debole. Come sarà strutturata, che servizi avrà questa stazione di partenza da cui si scende verso la città? La stazione di partenza consentirà di avere un servizio sia per l'utenza automobilistica, ma anche e soprattutto per altre utenze, quali ad esempio le biciclette, quindi sarà prevista una ciclostazione, sarà previsto l'accessibilità garantita a tutte le persone, anche a soggetti deboli, utenze deboli, con carrozzine, con passeggini. Sarà strutturata a un livello alto, quindi l'accesso sarà direttamente sul parcheggio riqualificato su cui ora ci troviamo e garantirà chiaramente anche per quanto riguarda il circondario quegli aspetti di mitigazione rispetto alle case vicine, sia in termini di acustica che in termini di impatti ambientali, cercando di ridurre al minimo quelle che sono la presenza stessa della struttura. Quindi con opere di mitigazione verde, con opere che limitano il rumore delle cabine in arrivo e quindi sarà una stazione integrata che garantirà anche il conforto di chi sta vicino.